Si rialza alla curva dei contagi giornalieri, schizza il numero dei guariti, ma in compenso il virus fa registrare altre 20 vittime in un giorno. E' questo il quadro aggiornato della situazione Covid in Puglia. Una foto chiara della pandemia è scattata, come di consueto, dal bollettino epidemiologico regionale che oggi, mercoledì 20 aprile, segnala 8.887 nuovi casi accertati a fronte di oltre 40.800 tamponi analizzati. Più di un terzo dei contagi odierni si riferiscono alla sola provincia di Bari, che ne conta 3.092. Segue Lecce con 1.681, Taranto 1.365, Foggia 1.089, Brindisi 1.039 e poi la Bat con 510 casi, ai quali si aggiungono quelli di 91 residenti fuori regione e 29 di provenienza non ancora accertata. La somma dei contagi pugliesi dall'inizio della pandemia tocca così quota 1.018.468. E a salire purtroppo anche il bilancio delle vittime, con altri 20 morti in 24 ore, che portano il totale dei decessi pugliesi a 8.190. Notizie decisamente migliori sono quelle che arrivano dal fronte sanitario. Ricoveri in calo. I pazienti Covid in ospedale sono in tutto 626, di cui 587 si trovano in area non critica e 39 nei reparti di terapia intensiva. Va giù anche il dato riferito alle persone attualmente positive, che scendono a 101.417, più di 250 meno di ieri. Nuovo deciso balzo in avanti, infine, dei negativizzati, che superano ampiamente la soglia dei 900.000, con oltre 9.000 pugliesi guariti solo nelle ultime 24 ore. Grazie a tutti.